se c'è un buio allucinante, so cosa si vede lì, con la pila al massimo si vede un cast, la passione per annuar dei canici Clark, Sterling e Francine Clark Collection, 1916-1952. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.